3.100 atleti da 54 diversi stati, numeri di peso per la 29esima edizione della Venice Cup, gara internazionale di karate che al Palai Invent di Jesu lo ha messo di fronte per 5 giornate di gare atleti di diverse categorie. Innanzitutto 150 dai 16 anni in su nelle cata, prima competizione fra gli otto tatami che hanno ospitato nelle fine settimana la Youth League, poi è stata la volta di 450 atleti che si sono contesi la Venice Cup nella categoria Under 21 assoluti nelle cumite. I portavolori italiani hanno conquistato 56 medaglie totali, 15 ori, 14 argenti e 27 bronzi. I veneti hanno ben figurato nella gara storica nata a Noale e che da oltre 30 anni viene portata avanti da maestro Vladi Verdiero, responsabile del settore karate nel comitato regionale veneto-filchiam. In evidenza, Francesca Reale dell'Asicarate Veneto Oro nel cata femminile. La tappa italiana è della Youth League, figlia della Venice Cup, nata a sua volta a Caorle, subito adottata dalla Federazione Mondiale World Karate Federation nel suo circuito di gare internazionali, è stato il primo anno che l'ha vista a Jesolo, tappa italiana dunque delle quattro complessive in altrettanti paesi. Gli altri sono Messico, Croazia e Cipro. Nell'ultimo mondiale svolto sia a Dubai, la nazionale italiana si è raffreggiata del titolo assoluto a squadre nel cumite per la prima volta nella sua storia confermando a Jesolo un trend decisamente positivo. La Youth League è d'altronde un circuito fondamentale in quanto torneo di qualificazione per le Olimpiadi. Il Palai Invent Jesolano ospiterà la prossima edizione dei campionati mondiali nel 2024. La vittoria a squadre nell'ultimo mondiale e le medaglie conquistate alle Olimpiadi hanno imposto e create quale sport in crescita, fin dalle competizioni giovanili come la Youth League, con l'Italia che riesce a farlo da padrona, con azioni quali Stati Uniti e Thailandia, che hanno certificato l'importanza di questo evento agonistico. Grazie